Ed è la volta ora del magnificentissimo Rione Madonna in Campagna, feudo della nobile famiglia Castigliono. Benvenuti. Ed ecco che si affaccia anche il quinto a Rione. Eh sì, a Rione, la volta di Rione è Sommateo. Sommateo con la nobissima famiglia Castiglioni da Venigono. Sommateo con la nobile famiglia Castiglioni. E' la volta ora dei nobili cavalieri a cavallo. Se li darvi di Venigono. Ed accogliamo qui al castello di Monteruzzo anche i valorosi uomini d'arme e la sala d'arme i magli d'acciaio. Ed ecco ora il rione Filisera, feudo della nobilissima famiglia Pallavicino. E qui il corteo sembra terminato, ma così non è, ne manca una buona metà. Ma parrebbe di sì, si vede che durante la sfilata ci deve essere stato qualche tocco. Può essere che si sono affermati con gli sbandieratori, quindi tanto ci sono, ecco che vedo arrivare i mangiafuoco. E salutiamo anche i mangiafuoco che fanno il loro ingresso qui al castello di Monteruzzo. Il fratello è fatto ingresso nel castello anche il capitale di Rione Gornate. Ed ecco lì. Eccoli qua, e non si mangia poco. Ma che caldo, hai capito se c'era un buco nel corteo? Adesso vi è molto chiaro. Ecco voi Rione Gornate, feudo della nobilissima famiglia Malaspina. Vi ricordiamo che questa sera con le botti partirà per primo. Siete esemplificati tutti del Rione, domenica scorsa, la gara di Cera. Ed ecco le dame del Rione Gornate con i suoi tradizionali colori, bianco e verde. Ed ecco le dame del Rione Gornate. Ed ora l'ultimo degli otto Rioni della nostra città. Il magnificentissimo Rione Falcetta, feudo della nobilissima famiglia Crivelli, con il suo seguito d'onore. Ciao.